Sarebbe scaduto alle 15 di ieri il termine massimo indicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per presentare le offerte di acquisizione della FIMER e invece si è deciso per una proroga di due settimane. La motivazione è data dal fatto che i commissari vogliono dare il tempo necessario a tutti gli interessati di formulare la giusta offerta d'acquisizione completa in ogni dettaglio. Sarà dunque il 29 ottobre prossimo la data massima per la presentazione delle offerte e successiva apertura delle buste. L'azienda di Terra Nuova Bracciolini che sta proseguendo con una produzione ridotta ai minimi termini e con circa 200 lavoratori al suo interno, secondo i commissari dovrà avere il miglior compratore disponibile e questo lo si può fare solo dando la possibilità a tutti di formulare la proposta più consona. Al momento nessuno sa chi potrebbero essere i potenziali compratori ma nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è specificato che i commissari hanno ricevuto un forte e significativo interessamento da parte di primarie società operanti sia in Italia che all'estero. Non resta dunque che attendere la fine del mese.